All'Aquila fa discutere il caso di Francesco Tuccia, l'ex militare del 33esimo reggimento artiglieri Acqui, ormai soppresso, che è tornato libero dopo lo stupro ad una giovane studentessa universitaria. Aveva stuprato e ridotto anche in fin di vita una ragazza di 20 anni di Tivoli, ma residente in città. Ora è a tutti gli effetti un uomo libero, dopo aver respiato la condanna a 7 anni ed 8 mesi di reclusione, con le accuse di violenza sessuale e lesioni gravissime. Francesco Tuccia è di Montefredano, Avellino, oggi ha 28 anni, per molto tempo è stato al centro delle cronache nazionali per aver violentato una studentessa fuori ad una discoteca a Pizzoli. Una violenza dalla dinamica cruenta, tanto che Tuccia, all'epoca ventunenne militare del 33esimo reggimento Acqui, nonostante i tre grali di giudizio ai quali attraverso i propri legali abbia tentato di fornire una sua versione dei fatti, non è riuscito ad evitare il giudizio della Cassazione, che pur riducendo di 4 mesi rispetto alla sentenza all'appello dell'Aquila nel gennaio del 2015, lo aveva spedito in carcere. Dopo un periodo di arresto, Tuccia ha poi goduto di un altro periodo di arresti domiciliari, poi l'affidamento ai servizi sociali, con i quali il 28enne ha concluso il percorso scelto in alternativa alla detenzione. Ora è libero a tutti gli effetti, ma lascia dietro di sé un impianto accusatorio mai scalfito, nonostante la vicenda fosse stata molto ribattuta tra l'accusa e la difesa. Nel gennaio del 2012, per ripercorrere la storia e con una temperatura di 14 gradi sotto Roggero, il giovane aveva lasciato la studentessa universitaria a terra sanguineante nel parcheggio esterno della discoteca. Secondo l'accusa, la ragazza sarebbe certamente morta se non avesse ricevuto le cure del personale addetto alla sicurezza del locale. Tuccia era rientrato nel locale come se nulla fosse, dicono i testimoni, e sarebbe riuscita ad andare via se non fosse stato bloccato dagli stessi vigilantes. La difesa ha sempre sostenuto invece che il giovane non fosse scappato, ma era seduto in macchina a fumare una sigaretta in quanto sconvolto e che comunque la studentessa, nonostante fosse ubriaca, fosse consenziente nel rapporto sessuale.